la Sicilia sia dal punto di vista economico che sociale ed etico conclusosi con l'immagine devastante di un presidente ancora in carica che festeggia a cannoni una severa sentenza giudiziaria. La Filocchiaro è sicuramente la oscia faccia della medaglia che può ridare speranze alla Sicilia e la sua storia personale e politica ne sono la testimonianza e la garanzia. Non ultimo il suo impegno al Senato della Repubblica che è stato di alto profilo e ha saputo amministrare con competenza, professionalità ed equilibrio pur in presenza di un contesto non certo facile. Voi per i nomi, voi per le turbulenze interne alla coalizione. Grandi sono le sfide che lo stentano perché molteplici e complessi sono i problemi da affrontare per cambiare il voto della Sicilia. La sanità, l'ambiente, il lavoro sono per citare alcuni temi più importanti per lo sviluppo dell'isola. Naturalmente perché questo processo di rinnovamento e modernizzazione della Sicilia possa realizzarsi c'è bisogno anche di una nuova classe dirigente motivata compresente e di alto profilo culturale che la sappia sostenere per poter realizzare appieno le grandi sfide che l'attentano. Certo, bisogna vingerla questa competizione elettorale che è difficile ma che si è saputa compattere visto il consenso personale che hanno finito chiaro riscuote anche su larghe fasce del centro-roscia. Questa volta ci auguriamo possa essere davvero vinta per il bene della Sicilia. Grazie. Grazie.